Buongiorno a tutti, come sapete i giornalisti non sono presenti in sala, ma hanno inviato le domande all'ufficio stampa del club e due colleghi di Roma Radio e Roma TV ci aiuteranno a porgerle a Mr. Fonseca. È presente invece in sala l'inviato di Skype Paolo Assogna, a cui lascio la parola per l'inizio della conferenza. Fonseca, lei da allenatore ci insegna che la fase difensiva si fonda su un'organizzazione collettiva, ma anche sui comportamenti individuali di difensori che devono tenere sempre l'attenzione alta, la concentrazione alta. A Milano abbiamo visto che questi elementi in alcune parti della partita sono mancati. Secondo lei perché questo gruppo in questo senso non ha mai fatto un salto di qualità definitivo? Sulla partita dell'Inter, noi sappiamo come giocava l'Inter. Non abbiamo fatto una partita in cui volevamo abbassare, volevamo difendere Basso, volevamo avere l'iniziativa. e penso che abbiamo avuto, abbiamo creato situazioni per fare gol, abbiamo giocato il secondo tempo quasi sempre in metà campo offensivo, ma è una postura di rischio. E noi sappiamo che contro l'Inter il contrapiede è mortifero e qui penso che abbiamo sbagliato. Il momento in cui la squadra perde la palla non abbiamo reagito bene, non abbiamo fatto bene la marcatura preventiva e possibilitiamo l'Inter di fare quello che loro vogliono. E qui penso che abbiamo sbagliato principalmente in lasciare l'Inter uscire in contrapiede, giocando principalmente con Lukaku e la squadra ha reagito tardi a questo momento. Penso che non è che l'Inter ha creato molto, quello che ha creato è sempre in contrapiede, ha fatto gol. Penso che questo è un problema di questa squadra, questa squadra non lascia le altre squadre creare molte situazioni in organizzazione. E' un problema che quando sbagliamo le altre squadre fanno gol, ma è veramente un problema di questa squadra. che abbiamo giocato in due modi, questo è più rischioso, sappiamo di questo rischio, ma dobbiamo sapere contrariare questo tipo di gioco delle altre squadre. Una cosa analoga, anche se con modalità diversa, accade nel derby d'andata. A campo aperto Luis Alberto Immobile, soprattutto Lazzari, ricordo che fecero molto male la fase difensiva della Roma. Ha pensato ad affrontare la Lazio in maniera diversa rispetto a quella partita d'andata, anche se per carità sono cambiate molte cose. Ma ci sarà una differenza rispetto allo spazio che trovarono Lazzari e compagna nel derby d'andata? Sì, abbiamo preparato strategicamente questa partita in un modo, devo confessare, un po' diverso. L'ultima partita abbiamo fatto pressione sul primo momento di costruzione, sempre alta. e qui la squadra è stata poco equilibrata a fare questo tipo di pressione. Dopo loro hanno uscito molte volte in contrapiede. Abbiamo preparato la partita per domani per non lasciare Lazio uscire in contrapiede, perché sono molto pericolosi a uscire con Immobile, con Correa, con Luis Alberto, con Savic, con il Tersini. Dobbiamo stare attenti a questo. La zona richiede, visto lo scorre negli scontri diretti con tre due termini d'andata, è imponizzabile una Roma diversa nell'atteggiamento, magari più coperta e equilibrata? Come ho detto, abbiamo una strategia per questa partita. Vogliamo essere una squadra più equilibrata in tutti i momenti. Sappiamo che Lazio è una squadra pericolosa in contrapiede. Dobbiamo fare una partita equilibrata in tutti i momenti. La domanda della ricetta dello sport. La Roma per due anni di fila ti rilassero a Lazio, cosa che non accadeva da tempo. Come mai questo divario secondo lei è colpa soltanto degli infortuni? Devo confessare che principalmente è stata una stagione difficile con infortuni, con infortuni e giocatori importanti. Come ho detto tante volte, penso che con tanti giocatori importanti, se abbiamo avuto sempre questi giocatori importanti, potevamo arrivare in altre posizioni. Domanda del Corriere dello Sport. Questa è la sua ultima partita all'Olimpico. Lascia con qualche rimpianto. C'è qualcosa che non rifarebbe? Io lascio soprattutto con grande orgoglio in questi due anni di essere allenatore della Roma. per volte in questi momenti in cui lasciamo un sentimento di ingiustizia, ma per me non c'è questo sentimento. Per me il sentimento è di grande orgoglio di essere allenatore della Roma in questi due anni, di avere sempre il rispetto di tutti, di avere sempre l'admirazione e la simpatia dei tifosi. Per me quello che è importante è avere questi sentimenti. Domanda del Romanista. Nell'azione del primo gol di Milano, Kumbulla rientra molto lentamente e Brozovic tira indisturbato. Nell'azione del secondo gol, Mancini si gira e salta sul tiro di Vesino. Quando un allenatore vede questi comportamenti in una partita decisiva, dovendone preparare un altrettanto importante, si fa qualche domanda? È colpa sua se non riesce a trasmettere le giuste motivazioni o i giocatori dovrebbero essere motivati anche da soli? Io faccio sempre, quando vinciamo e quando non vinciamo, faccio sempre molte domande. E devo dire che, come sempre ho detto, io sono il principale responsabile di tutto ciò che succede nella squadra. e io procuro sempre soluzioni. Quando sbagliamo collettivamente, individualmente, io sono sempre il primo a procurare soluzioni, a procurare soluzioni per non fare questi errori, per lavorare, per imparare. Io sono consciente che io sono sempre il principale responsabile. Domanda del tempo. La Lazio, come l'Inter, è molto brava ad attaccare in ripartenza. Tornerà al modulo con la difesa a tre per esporsi di meno? No, giocheremo a quattro. Teleradio Stereo le chiede la Roma soltanto in campionato ha subito 53 gol effettivi. Che cosa non ha funzionato nel sistema difensivo? Penso che non è solo un problema della difesa, è un problema della squadra. ma penso che sono cose che sono reali. Non sono qui inventando le cose, ma non avere per esempio Smalley durante tutta la stagione, il difensore più esperto. Abbiamo giocato tante volte con difensori molto giovani. è stato importante e decisivo per la nostra prestazione difensiva. Dopo, come ho detto anche, io penso che Roma non è una squadra che lascia le altre squadre avere molte situazioni. ma penso che abbiamo avuto molti errori. Penso che molti gol che abbiamo preso sono più errori nostri che proprio la decostruzione dell'adversario. ma penso che non abbiamo mai avuto la stabilità di avere tutti i difensori pronti. E penso che qui l'ausenza di Smalley è stata molto importante. Centrosuono Sport, nella gara di andata la Lazio vi ha lasciato il possesso, lavorando difensivamente sulle linee di passaggio e schermando i vostri migliori giocatori. Pensa che sarà una partita diversa? La squadra è maturata per interpretare diversamente la partita? No. Penso che Lazio giocherà come gioca sempre, procurando sempre il contrapiede, procurando sempre la uscita rapida, procurando sempre giocare con i mobili e correia per uscire velocemente. Mi aspetta la stessa squadra. Come ho detto, abbiamo preparato la partita per non permettere questi momenti alla Lazio. La domanda di Rete Sport. Recentemente è tornato al 4-2-3-1. A cosa è dovuto questo cambio di modulo e se si poteva fare anche prima? Io ho detto sempre che abbiamo avuto due modi preparati per questa squadra. questa scelta dipende dalla risposta della squadra, dipende del momento. Penso che adesso abbiamo cambiato con Manchester, la squadra ha risposto bene. per volte questi cambi sono anche un motivo di motivazione della squadra, un motivo di creare nuove dinamiche per la squadra. Io penso che in questo momento non fa senso cambiare. domanda da parte nostra di Roma Radio. Il suo primo derby fu alla seconda partita sulla panchina della Roma, mentre il suo ultimo derby è alla penultima gara da allenatore della Roma. Quali emozioni si ricorda di quella volta e quali invece pensa di provare domani all'Olimpico? La motivazione è la stessa. Penso che qui è una cosa che cambia molto, che è il tifosi, avere i tifosi in stadio. È stato veramente bello quello che ho vivido qui nel derby. Io parlo sempre che vivere questi derby è una cosa unica, una cosa che è difficile di spiegare. Domani noi abbiamo i tifosi, che sono molto importanti per noi, ma noi vogliamo avere la stessa motivazione. Sappiamo che è una partita importante per tutti noi e mi aspetto che i giocatori saranno motivati anche senza tifosi, ma per vincere questa partita. Domanda da parte nostra di Roma TV. Ministro, quest'ultimo periodo è stato molto intenso. In questa settimana c'è stato anche il turno infrasettimanale. Come arriva la squadra e come sta? Sta bene. Ovviamente non abbiamo avuto molto tempo per recuperare i giocatori. Sappiamo che in questo momento non abbiamo tutti i giocatori disponibili, ma mi sembra che la squadra sta consciente dell'importanza di questa partita. Sono motivati, è facile vedere questo. E tutti noi, come ho detto, sappiamo quanto è importante luttare per vincere domani. Grazie mille. Ciao Paolo. Ciao Paolo. Ciao Paolo.